Benvenuti e buonissimo Marcio e benvenuti in questo nuovo video di Venerdì 13 Oggi ragazzi sono in compagnia di Eren e Tina No, solo io ci sono Quindi c'è anche la webcam Ciao Tina, ciao Aspetta, tu guarda a destra, cioè tu saluta la tua destra, si saluta a sinistra Ciao Tina Ciao Ciao, ci siamo salutati Ragazzi per questo video di Venerdì ci voglio almeno 5.000 like Visto che vi sta piacendo veramente un sacco Quindi voglio subito un like, mi raccomando ci tengo tanto E nulla, adesso vi lascio all'intro All'intro? No, all'intro non ho All'intro Ciao Ciao Inizia E siamo sempre con la scena un pochino Non sono sempre sul cellulare, lo giuro Dai, lo giuro, lo giuro Oh, finalmente sono riuscita a mettere sta cacchio di foto, Marci Sono qui perché stavo modificando la foto per Instagram in tutti i modi Pensa te, pensa te, oh guarda C'è il parco 2, oh C'è il parco 2, oh Cioè vogliamo dire Cioè Stati zitt, va Avevo l'estratesta Per t'imenticare Mi vedete questi soldi, ragazzi Questi sono i soldi Che ho fatto in 5 minuti Sapete perché? Perché ho pagato il biglietto a mia zia E mi ha ridato i soldi In realtà li ho fatti in un secondo Perché me l'ha dato tipo Ma non dire menzogne Sono i big money di YouTube Ma che cazzo fai? Coglione Pacanac Lodge 1984 Sono fuori bruciato vivo, guarda No Povero Mi spiace Io te lo dico Te lo dico Sono di nuovo Jason Mi spiace Secondo me sono io stavolta Sai? Andiamo E infatti Ma da marci Non è vero Vabbè Ci ho tentato Ma io sono vicino a un complesso di 6 case Quindi cioè Se non trovo qualcosa di decente io qua Io sono spawnata all'hotel Adesso arriva Jason Sicuro Se è furbo Jason Sì, viene da te A me piacerebbe trovare cose decenti Non ho trovato niente Nel primo cassetto Prendiamo già un'arma Qui non c'è altre armi Oddio c'è il pappagallo Pappagaio Pappagaio Oh ho trovato i pedali Ho trovato le chiavi Le chiavi della macchina Per la prima volta nella mia vita Arrivato a trovare La mappa Così tanta roba Non me lo sto dicendo Il passaggio qui è meglio Mi hanno rubato qua Ti hanno rubato? Mi hanno rubato Oh no no La pistola l'ho aprendo però Riesce a venire in una di quelle case Nei complessi? Io sono ancora all'hotel Se riesce tra la benza Qualcosa del genere dimmelo Oh ma qui c'è questo Guardi qua c'è qualcosa di interessante Andiamo Ci sono due persone con il fucile Ma seriamente eh Ma chiede veramente Se trovo il coltellino Due chiavi Io ho due chiavi Io ho due chiavi della macchina Cioè nessuno può Oh ho fatto la benzina Sì ma tanto nessuno può scappare Se non ci sono io nella macchina Perché io ho tutte e due le chiavi della macchina Tanto una volta che le hai messe Ok lo spray Ottimo 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 Se trovassi la batteria Vieni alla macchina dell'hotel Io sto mettendo la benzina Ci manca la batteria Eh ok Va bene Ci sto Però vorrei trovare la batteria Se trovassi la batteria sarebbe un plan Quella è aperta Vorrei andare in una casa ancora non aperta Ma mi sa che sono vicinissimo io all'hotel C'è uno col fucile E non hai fatto la mappa scusa Sì 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 C'è la benzina qua Non c'è la batteria Io adesso sono ancora dentro l'hotel Eh ci vorrebbe la batteria Cazzo Dove potrebbe essere Oh c'ho il walkie talk Che tanto non mi serve La trappola che non mi serve C'è la benzina la prendo lo stesso No lascio C'è niente Tina qua Non c'è proprio niente Dovremmo trovare la batteria Cazzo in una casa di queste Se vuoi dirmi che non c'è la batteria Eh adesso io sono andata a recuperare la pistola E adesso vado a cercare la batteria Che si prova Eh sì sono già stati Però magari non l'hanno vista la batteria Io comunque c'ho tutte e due le chiavi della macchina Quindi ad ogni modo Io la macchina teoricamente potrei Che noia ti vedo Ti vedo Mi sa che tu eri in sta casa qua Che sono entrato da dietro io Oh c'è lascia però cazzo Lascia è meglio del pappagallo Oh buono buono Ok Va bene Qua non si scende Boh Tina tu dove sei? Prova di venire da te se vuoi Eh stesso entro nelle case Dai e dai e Che no ma Martina Quelli li ho già viste tutte A meno che mi sono dimenticato qualcosa E allora buo Sì manca la batteria Andiamo verso Vado verso sud Verso nord dovresti andare secondo me Vabbè andiamo verso sud Vado verso sud anch'io Che c'è una macchina Protonando verso sud Eh c'è già sto qua che sta andando in sta casa qua Batteria Ce l'hai? Ce l'ho Ce l'hai ce l'hai top 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 Allora arrivo Vedo di beccare qualche coltellino svizzero magari Ma no ma non ci credo Noo Ci ha rovinato la partita Che palle oh C'è una punita della vita Che è una punita della vita veramente Raga Pakanak Lodge Pakanak Lodge 1984 Questo qui morirà infuocato Me lo sento No Cazzo no Non sono io Jason Perché Ruttitina fammi capire Cioè adesso tipo in tele libertà Fammi capire Sì visto dalla webcam caro Quindi Io sono già dentro l'hotel Neanche spawno fuori Sono spawnato direttamente dentro Che figo Anch'io sono all'hotel Permesso Ciao Marci Il tuo personaggio ha Dici di fortuna Ma non ha autocontrollo Tipo Oh c'è il fucile C'è una pistola Vieni a prenderla Però non vorrei lasciare il fucile Per la pistolina Sai come Che due Io prendo il coso che mi cura Sì che prendo la pistolina Sei già salita te Eh sì Dove è stata? Sinistra o destra? Ok Destra Uh coltellino Veramente? Top Sì Siamo i due personaggi più fortunati Considera E stiamo luttando la casa con più roba Con più roba Io ho trovato lo spray Ottimo lo spray Sì però non c'è niente Sì ma io ho trovato cose senza niente Guarda Niente 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 In una stanza qua Brava Oh lurido Dai Fammi aprire Oh L'ho io Sparo Non c'era niente Non c'era niente Sto male Sto malissimo Controlliamo Vediamo se nelle stanze C'era tipo batteria Perché non ho controllato O qua c'è un'altra stan Vabbè collegare l'altra Però in teoria Fa male di salsa barbecue Vabbè di un amburre Con salsa barbecue E vabbè Vabbè usciamo Tina Questo point C'è qualcuno che sta piacendo roba Nella macchina Se magari qua fuori c'è qualcosa No un cazzo c'è Ma porco due No Oddio c'è un tedesco che mi parla Ho paura Come lo muto Possiamo spararli In questa casa secondo me Non c'è Quale c'è un cazzo? Quale c'è un cazzo? Quale c'è un cazzo? Ok vuol dire che ha messo la batteria Oh ma che cazzo fa Ritardato Mi picchio Sto coglione Ah scemo di merda Occaiano di sto cacchio Ti appena hai chiesto Sei trovato del fuel Ma perché mi devi picchiare? C'è Jason di fianco a me Adesso lo insulto C'è Jason di fianco a me Io lo porto da Occaiano Ammazzalo Come si parla? Con la T Occaiano muori male Coglione No non ti si sente Tina Mi sa che l'ha ucciso Ma è morto proprio Occaiano Mi sta bene Troppo C'è una batteria Tina Oh cazzo Eh ma quello mi sa che ha messo qualcosa Devo buttarmi dalla finestra Però so che qua c'è la batteria almeno Tina sono uscita Ah si ma manca la batteria C'è il fuel Manca la batteria qua No 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 mi ha trovato Mi ha ammazzato Mi ha ammazzato Sei in serio? Sai che cosa? Si è buttato dalla finestra Si è buttato dalla finestra Perché io mi sono buttato dalla finestra Lui aveva dovuto fare il giro E mi ha ammazzato Ah Ma come ha fatto? Non lo so Non te lo so dire Ho un bagno coglione Tina qua dentro Qua dentro c'è la batteria Qua dentro Guarda qua sotto C'è sotto lo spray Vicino a me c'è lo spray qua Prendi lo spray prendi Ma io posso usarlo lo spray Però non me lo fanno usare lo spray C'è un fucile È il mio Sì Sono Tommy Jarvis Grande E dai Siamo in due col fucile Tina Proviamo a togliere la maschera al tizio E come facciamo? No Tina Mi stai seguendo Mi stai seguendo Tina sono spawnato vicino alla casa di Jason Ah aiuto Ragazzi è la casa di Jason questa mi sa No abbiamo Sono morta Sono morta Sono morta Tina sono alla casa di Jason Come sai qui c'è la casa di Jason? Qua c'è un'ascia Come si fa a prendere il maglione raga? Cosa è che ti guardo? Eh ma deve essere proposto una ragazza eh Ah è vero questa è la casa di Jason Lo stai facendo? Cosa stai facendo Marci? Ok gli hai sparato Sotto preso Ciao bombero Alla meso No come in trappola No Ah ha messo la trappola lì Scappa 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 Marci Scappa Fiii Gia l'ansietta Non c'è una casa con delle vicinanze? Sì Cazzo Che cosa ho combinato? Madonna Ma la porta è chiusa Sì è chiusa Chiusa C'è una pistola Prendi la pistola Dov'è dov'è? Lì sul tavolino Non capisco cosa voglio fare Ah sta rompendo semplicemente le cose Sì Vieni qua No non smararli Non c'è bisogno Beh qua mi ferisco però se riesco Esco lo stesso Boh ma sì Tommy Jarvis può fare tutto Sì Ma prima gli sparo scusa Non è meglio No Ah cazzo Eh mi si è ferito troppo Eh perché eri già ferito dalla trappola Mi so Ah T'ha preso così Mizzega Come fa? Non lo so Però è bravo questo qua È proprio bravo Questo era bravo eh Cioè si tipava proprio davanti Sì 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 Vabbè ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo fatto un sacco di partite Ne abbiamo inti due E ne abbiamo persa una E vabbè raga È andata così Però fa niente Ci vediamo al prossimo video Vedi Bella Ciao Ciao